Greg, era importante oggi tornare alla vittoria, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, ancora una volta reagendo alla difficoltà con il ritorno di Latina, soprattutto nel secondo e all'inizio del terzo set. Sì, ma abbiamo aspettato una partita difficile, sappiamo che Cisterna gioca bene, soprattutto in casa, quindi sono contento con la nostra performance. Io ho giocato prima partita di questo campionato, sicuro che posso giocare anche meglio, ma fino alla fine abbiamo vinto tre punti, questo è importante, tornare dopo due sconfitte, sì, sono felice per questa opportunità. Infatti veniamo alla tua prestazione, condizionata molto dalla ricezione nostra, soprattutto quando Cisterna ci ha messo tanto in difficoltà, quando è entrata la battuta di Cisterna diciamo che spesso e volentieri siamo andati in difficoltà, e lì bravo Greg a correggere il tiro, no? Ma sì, sapevo che partita sarà così, abbiamo preparato a video, coach già ha detto che a casa giocano veramente molto molto aggressivo, molto bene, anche oggi hanno messo tanto pressione sul nostro ricezione, ma alla fine abbiamo tenuto palla sul nostro campo, giocato palla alta e vincere questa partita alla fine. I risultati diciamo, adesso si guardano un po' di più in questo finale di stagione per capire come andrà a delinearsi il tabellone dei playoff, ci spingono sempre più verso il secondo posto, poco conta, adesso conta giocare bene per questo finale, Greg? Certo, conta per tabellone, ogni punto conta anche come preparazione per il playoff, sappiamo che dobbiamo migliorare ancora un po' il nostro prestazione avanti di playoff, perché sappiamo cosa è successo l'anno scorso, quindi ogni partita conta e sono contento che questa è finita così. Grazie Greg.